Un percorso condiviso per aiutare imprese e commercianti lo ha proposto il sindaco Silvia Marchionini ieri sera in consiglio comunale in seguito alla discussione sulla tassa di occupazione suolo pubblico. Il gruppo Verbagna Futura aveva proposto di esentare fino a dicembre dal pagamento utilizzando l'avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro. L'amministrazione comunale di Verbagna è tra i pochi comuni a farlo, aveva deciso a inizio marzo di prolungare fino al 30 giugno l'esenzione del pagamento dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico utilizzando fondi comunali, nonostante la fine dell'emergenza dovuta al coronavirus, spiega Marchionini. La prima cittadina ha proposto ai consiglieri di trovarsi entro dieci giorni per delineare un percorso condiviso che attivi possibili ulteriori interventi e sgravi per i prossimi mesi, anche come richiesto dall'associazione di categorie dei commercianti. Sempre per affrontare la situazione in evoluzione legata al post-pandemia e rincari delle materie prime e delle bollette energetiche, chiederò nei prossimi giorni un incontro con l'associazione di categoria per confrontarsi anche con loro sui quali aiuti il comune nei suoi limiti e compiti può dare, conclude. L'assessore a bilancio Anna Bozzuto ha presentato il rendiconto di gestione 2021. La pandemia, ha detto, ha condizionato pesantemente anche il 2021, aggravando le disuguaglianze con conseguenze sociali ed economiche ancora pesanti. Ciò nonostante i conti si sono chiusi tutti con il segno più e la situazione dell'ente è assolida. Abbiamo cercato di tenere insieme emergenze e attività ordinarie all'avanzo del 2020 e le entrate dal governo hanno permesso di chiudere con esito positivo, anche grazie all'esito felice del bando di rigenerazione urbana da quasi 20 milioni di euro che pone le basi per opere che cambieranno il volto della città. L'esito del bando testimonia anche la grande capacità progettuale, prosegue Bozzuto e operativa del comune, anche se le difficoltà economiche e sanitarie non sono ancora finite e si aggiungono quelle della guerra in Ucraina. L'avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro ha commentato il capogruppo di Verbagna Futura, Gian Domenico Albertella, un buon tesoretto che potrà essere utilizzato in favore della città. Dai crediti in dubbio esigibilità emerge la sofferenza nel pagamento della Tari. Bisognerebbe contenere i costi a carico degli utenti, siamo a disposizione per un confronto.